E' bello stare lontano da tutto. Sì. Quando me ne sono andata la cameriera mi ha detto, ma dove vai? E l'ho detto dovunque, arrivederci. Avevi una cameriera? Sì. A volte mi chiedo come sarebbe stata se avessi avuto un'educazione, una famiglia normale. Beh, dipende cosa intendi per normale. Una mamma, un papà, un cane. Cazzate così. Normale. Scusate, non ce l'hai avuto un cane normale? Non ho mai avuto un cane. Un padre normale? Non ho mai avuto né un cane né un padre. No, non fa niente. Non mi piango addosso per questo. Anzi, sono soddisfatta. Sono abbastanza equilibrata. Vabbè, ma dai, cos'è un padre normale? A me piace parlare con te. A me piace parlare con te. Ci sono un sacco di cose che ti vorrei dire. Che cosa? Cose. Ti vorrei stare vicino. In un altro modo. In che modo? Non lo so, è diverso. Che cosa sono io per te? Amica, ma come cosa sei? Sei la mia migliore amica. No, bello. Amica è bello. È bello essere amica. Che c'è? Niente. Michi, io faccio il sesso con lo danno sulla pagamento. Solo per soldi, capisci? Però io t'amerei anche se tu non mi pagassi. Michi. Michi. Guardami. Due amiche non si possono amare. Ok? Ok. Va bene. Michi. Michi. Possiamo essere amiche. Va bene, va bene. Ok, non fa niente. Certo che siamo amiche, dai. Buonanotte. Michi, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Oh, vieni qua. Vieni qua. Siamo vicino adesso. Tu lo sai però che io ti amo, vero? to... Oh, frissimo. No. No. No, no. No. stop